buongiorno sono l'anora garibaldi sono l'osteopata e una fisioterapista oggi sono qui a presentarti il mio corso sugli assi ormonali e razionalistopatico il corso ha durato circa di due ore diviso in sei moduli qual è l'obiettivo perché iscriverti al corso perché vederlo perché parlerò dell'asse HPA, HPG e HPT ma in particolar modo delle strutture come ipotalamo, ipofisi, gonali, surrenali e chiroide integrando quindi terzi ostopatici su queste strutture a razione ostopatica unite ovviamente dalla conoscenza degli ormoni e del neurotrascettore. Spesso i nostri pazienti hanno dei sintomi somatici da cui causa però dipende la disfunzione anche della mitra o dell'ipotalamo dell'ipotesi. Il tutto osservando il paziente quindi parlerò di biotipologie ed inserendo in un contesto irrazionale ostopatico in modo da poterci guidare nella scelta di trattamento e delle tecniche più specifiche. Quindi segui il corso e buona visione. Ciao!